ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione che buh ma che cazzo la faccio a fare questa recensione che già tutti quanti ne hanno parlato su youtube carino simpatico bellino volete sapere il mio parere volete saperlo io non vedevo l'ora che finisse sta cazzata pensò che poteva essere divertente invece l'anti divertimento l'anti azione l'anticommedia è anti tutto è una minchiata cioè qua The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot si sono maniati di tutto il budget del film perché sono più nei green screen che veramente in quel posto loro dicono Egitto, poi non so parlare in Egitto, sono con il green screen pure io metto il green screen e ti dico sono in una galassia cioè sono in Turchia, che vuol dire? cioè quasi tutte le scene sono sempre al chiuso e ti vogliono far sapere che sono in quella parte della città che non sono la trama è una delle più stupide cretine che si sono ispirati un botto anche dai videogiochi anche un botto da Indiana Jones perché Indiana Jones è quello che ha dato il via un po' a tutto c'è stato Lara Croft, poi c'è stato Nathan Drake di Uncharted perché dobbiamo essere anche sinceri e seri che i film e i videogiochi si copiono a vicenda i videogiochi copiono i film, i film copiono i videogiochi questo sarebbe una merda in tutto anche se questo posto sarebbe uscito i videogiochi, sarebbe stata una cacata abbiamo So The Rock che lavora veramente per che cazzo è il profiler FBI del profiler e sono andando alla caccia questo ovvero Ryan Reynolds che è un ladro, no, professionista ha rubato vari artefatti importantissimi e di grandissimi valori e abbiamo poi la Galgatò che anche lei è una donna che ruba e che è anche molto furba e diranno anche altri ma che è anche molto buona e sì però non è che Galgatò un po' secondo me piano piano si sta invecchiando non è che la vedo più splendente come ai tempi di Wonder Woman insomma è qua la cosa brutta della bellezza che poi piano piano vai ad affievolirsi la vecchiaia è per tutti il Galgatò poi non ti chiameranno più quando sarai vecchia ritornando al film abbiamo prima di questo cazzo di Ryan Reynolds che dovevano cercare queste uova tutte le vogliono queste uova pure la nostra Galgatò e prima di un modo o nell'altro vengono incastrati sia il nostro The Rock e sia Ryan Reynolds ovvero proprio da Galgatò il film si sossegua su scenette imbecilli che non fanno ridere su Ryan Reynolds che fa il cretino e The Rock che vorrebbe fare la parte seria e quant'altro e Galgatò che spunta con vestiti diversi e dice quanto sono figa ah 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 sto facendo un sacco di soldi questo è il suo personaggio cioè non traspare un cazzo e come disse anche Frusciante c'ha tre espressioni facciali triste incazzata e sorridente questa donna non riesce a recitare manco sotto tortura fa sempre le stesse faccine hai rotto il cazzo Galgatò e te lo dico io perché gli altri dicono che sei buona e ti vogliono mettere a pecora siccome io sono una persona seria ti dico che dovresti farti un po' di scuola di recitazione perché secondo me manco ci sei andata a scuola di recitazione ma che non è detto vabbè sei buona poi passa e andiamo no fa schifo recitare The Rock vabbè anche lui non è che sia una grande cosa recitare però ormai The Rock cioè ci possiamo passare sopra ormai vent'anni di che fa film e fa sempre le sue stesse espressioni Ryan Reynolds ci prova no a far sempre no il divertente qualche volta ci riesce alcune volte no lo so che tante persone diranno le solite cose tu non sei un cazzo lo so già non sono un cazzo lo so benissimo i soldi che hanno loro non li farò manco in dieci vite lo so benissimo ci hanno i soldi ci hanno il Lamborghini io non dovrei insultare no però se fai stronzate di film io te lo devo dire con tutto ciò che io sono un povero mortale in confronto a loro e che sono loro nell'Olimpo completo veramente di incassamento di soldi e vi ripeto sto film sono stati spesi soldi soltanto per prendere a loro eppure a quel coso ma cazzo si chiama il cantante non che fa io fa manco spoiler c'è un cantante famoso no perché poi si incazza c'è un cantante famoso che spunta lì e fa pure la figura del merda nel senso che ma almeno il cantante dio benedetto ma perché non lo fa gli fa pure lo scemo per far ridere fa ridere un cazzo è stata una tristezza quando ho visto a lui ma una tristezza immensa e ora direte ma le scenazioni sono fatte bene no una merda pure quelle nascifez tutto in digitale stuntman contro stuntman green screen botte che si vedono che sono fatte così finte poi buchi di trama a non finire per tutti i film ti dici ma buon lola dove è finito il cattivo prima è nudo poi con la camicia poi non ce l'ha poi ce l'ha cose che non torno scompaiono i corpi per terra che hanno ammazzato spariscono poi i videogiochi avete presente quei giochi vecchi che siccome la console non riusciva a gestire i corpi a terra quindi dovevano sparire per forza ecco stessa cosa non riesce ancora a gestire manco le persone per terra perché sono un po' di coglioni forse dice perché poi dobbiamo pagare ragazzi veramente se vi piace io non c'ho nulla contro di voi assolutamente però se tu me lo presenti come grande film ci avete speso un sacco di soldi uno dei film più costosi di Netflix sempre la stessa cosa ci avete rotto i coglioni pure col suo bendesimo anniversario di Xbox mettendoci sta pubblicità di sta merda che vinco le tre uova io quasi qua te le vincerei me le ficcherei nel culo queste tre uova a sto punto cioè perché veramente ragazzi l'utilità di sto film è pari a zero e quelli che mi dicono è simpatico che poi vanno a recensire malamente ad altri film non capisci un cazzo fattolo dire da me perché veramente c'è stato uno un tuo con nazionale un ragazzo che fa anche lui recensioni che ha scritto in copertina simpatico ma sarai simpatico tu quando fai la spesa alla Conad perché sto film non è simpatico per un cazzo e te lo dico pure tranquillamente senza offenderti e poi ha buttato giù film cioè questa gente ha buttato giù film che non dovevano essere buttati giù e non butti giù sta cazzata scrivendoci simpatico ma come cazzo siamo messi qua su youtube a fare recensioni cioè i film che possono valere qualcosa li buttano nella merda appena gli spuntano Gal Gadot tutta la banda col vestito che senza min non c'ha manco le tette là tutti i bandi si arrapano e quindi i film diventano prende quell'interessamento per le donne perché c'è The Rock e quindi anche lo è bello c'è The Rock no non c'è un tra un cazzo ragazzi ci potono mettere qualsiasi cosa come a me che ci hanno messo lì in quella merda di film che forse ancora non vi ho portato la recensione che cazzo è The Night Tit che spunta tra i minuti Megan Fox che cazzo è diventato il film della vita no è una merda e forse Megan Fox manco comparì in quella minchiata ha fatto la madonna a spuntare ragazzi basta essere sempre così anche morti di fighe anche morti di cazzo nel senso che quando c'è un attore c'è l'attrice è buona tutti devono apprezzare quel film perché ci sono loro no ragazzi perché se vi vedono a voi gli fate anche schifo a voi cioè questo è il fatto non dovete apprezzare qualsiasi cosa che vi fanno perché ragazzi è una cosa inconcepibile cioè apprezzare un film perché c'è quell'attore non va bene è sbagliato e continueranno a fare queste minchiate continueranno ad essere più pagati questi attori perché voi continuate a vedere questa merda come un esempio Nicolas Cage ok per me è uno dei miei attori preferiti cioè io mi sono visto di tutto di Nicolas Cage la peggio merda mi sono visto di Nicolas Cage che neanche ho portato nel canale perché non avevo neanche il canale ma io dico sono film di merda con tutto c'è che Nicolas Cage lo voglio bene cioè io quasi quando me lo porterei a casa Nicolas Cage me lo metterei a letto me lo accarezzerei e accrezzerei i suoi capelli cresposi cioè con tutto il bene che ci voglia Nicolas Cage fa film di merda io lo dico Nicolas fai film di merda anche se ci hai regalato tanti bei film ma porca puttana riprenditi no qua invece Gargatò fa la puttana la con la scosciata tutta la mignottona e tutti quanti no c'è Gargatò e quindi è bello il film no c'è The Rock con i muscoli ragazzi lo so che sarò contro sempre sempre io sempre il solito stronzo a pensarla così mi direte sei un testa di cazzo c'hai sempre da dire c'hai sempre da criticare ragazzi mi spondono questi film ma io che cazzo devo dire mi hanno rotti i coglioni con sto red notice così le palle mi sono diventate delle notice le palle rosse mi sono diventate red balls con questa stronzata dai per favore siamo seri anche lui mi guarda lo sa pure lui vero diglielo anche tu che pazzina faglia una foto niente ragazzi perdonatemi per un mio linguaggio scurrile spero che nessuno si è come posso dirvi scandalizzato no perché c'è gente che si scandalizza per un po' di linguaggio scurrile perché quella volgarità uuu poi sono quelli che fanno peggio di tutto quando poi a casa loro io sono sempre me stesso non pago ancora youtube chissà ancora quando ci arriverò e tanta gente non ci arriverai mai facendo così allora leccare il culo ragazzi preferisco stare sotto i ponti anziché leccare i culi perché mi sono rotti i coglioni mi scusi regia mi sfunta qua cowboy b-pop ma scusi ragazzi fatemi segnare un po' la vostra non so che tanti di voi si incazzeranno perché vi ho toccato il galgadono lo so benissimo eravate voi con piselloni quando c'era il galgadono e io ho le altre con le sdite allenate con The Rock mi dispiace ragazzi il film se volete m'assurbarli andate a vedere un film posso dire una cosa sai come si dice il napoletano qualche napoletano che ti segue penso che capiranno non ce l'ho non ce l'hai allora non capiranno occhichine e mano vacante occhi pieni mani vacanti che ti rende gli occhi alla fine esatto se voi ve la vedete alla fine non potete toccare quindi è inutile che ve la vedete e vi fate le pippe che cazzo li fate a fare me ne frega fatevi qualcosa con le vostre donne e basta cercatevela ecco cercatevela la vostra donna e basta cercate e trovate anche se volete un The Rock è un po' difficile trovare uno come The Rock insomma fatevi fare i tatuaggi qualcosa che gli somiglia è The Rock sulla zizza mosce glielo potete fare ma per le donne anche se avrà la panza basta che sia un bravo ragazzo no perché perché vedi che tante ragazze io ai tempi se parlo qua i film di The Rock non mi sto ricordando in questi tempi perché i ragazzi ne hanno fatti tanti The Rock di film le femmine quando sento io dicono ah c'è The Rock sarà un bel film no no sbagliato non c'entra un cazzo The Rock ci sa c'è è bello ma nel film non si sa se è bello però capite ragazzi io spero non aver parlato troppo e anche che non vi ho io sono sembrato cattivo vi sono sembrato porgari vi sono sembrato perché ragazzi qua mi dà fastidio questa cosa ogni volta anche un'attrice secondo me questa è Gargatò potrebbe essere anche brava perché la danno fa sempre la parte della mignottona lì sempre scosciata a far vedere sto seno che non ha poi perché non la possono mettere come una normale attrice cioè nel senso mi sono venuti in mente anche altre attrici che sono andate Gargatò sembra che ha preso questa strada qua cioè io mi ricordo che è partita con Fast and Furious che vi giuro io non savo neanche che era lei in Fast and Furious l'ho scoperto dopo quando hanno detto hanno preso Gargatò di Fast and Furious se poi Wonder Woman e poi sono andata a vedere e lei era lì in mezzo a fare la cretina così ferma tutta quanta sembra a fare vedere il suo corpo ma ha detto ma chi cazzo è Gargatò cioè vi giuro ragazzi se non faceva Wonder Woman Gargatò non sapeva neanche chi cazzo era forse sono tanti i secaioli di Fast and Furious che la vedevano lì a culo tutto quanto attillato il pantalone e fare del culo di Gargatò poi basta cioè ma veramente ragazzi è una scena che stava in costume c'era una scena che viste in costume non lo so come cazzo era Gargatò in Fast and Furious se neanche mi interessa più di tanto ma è una donna che è partita da una saga di merda è andata a fare Wonder Woman che non è malaccio dicono Wonder Woman è una merda non lo so io ancora lo devo vedere perché aspetta ancora il regalo qualcuno ancora nessuno ha regalo ha detto ma qualcuno non lo regala siccome voglio le edizioni 4 poi qualcuno se qualcuno non lo regala io sono disponibile ci faccio la recensione dedicata a lui anzi qualche giorno dovrei mettere ragazzi la mia wishlist di Amazon poi chissà se qualcuno vuol fare un regalino a parte gli scherzi a parte gli scherzi della wishlist ce la metti ragazzi mi dispiace pure per Gargatò nel senso è usato come un pezzo di carne questo viene usato come un pezzo di carne si qua l'hanno fatta che lei è furba intelligente però sempre sempre perché è furba intelligente perché usa sempre il suo corpo perché usa sempre il suo aspetto fisico che sarebbe una brutta donna una ragazza bassa una ragazza che non può attirare la mandassero a cacare ecco non la valorizzerebbero invece sempre sto fatto che lei è buona e quindi può andare avanti lei è figa e quindi può fregare tutti non mi piace ragazzi lo so che vedete ma perché sei sempre così palloso in queste cose godi di film ragazzi io ho 27 anni mi sto vicino di 28 mi sono rotto un po' i maroni di vedere queste cazzate ne ho visti film che voi non avete manco idea mi sono rotto i maroni i coglioni sono rotto io posso capire negli anni 80 70 ma non ora ancora con sta storia nel 2021 sempre la donna a valorizzarla sempre fisicamente ma mai valorizzarla mentalmente lo so che tutti di voi siete sempre alcuni saranno contrari ma questa è la vita alla prossima recensione